Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, in tanti mi avete chiesto di spiegarvi cos'è Bui de Deep. Ve lo spiego subito. Bui de Deep è un sito internet in cui si fanno aste online. I prodotti che mette in vendita Bui de Deep sono svariati. Si va dalla tecnologia al vestiario, si passa agli orologi. Tante tante cose in vendita, tanti tanti oggetti in vendita su Bui de Deep. Io vi do un consiglio. Cliccate sul link nel primo commento di ogni miei video. Andate a vedere quello che trovate. È tutto molto interessante ragazzi. Ve lo assicuro. Bui de Deep è una casa di aste online veramente numero uno in questo momento. Acquistate divertendovi e soprattutto avete delle agevolazioni importantissime che vado a spiegarvi. Ad esempio, volete comprare un iPhone 13? Riuscite ad accaparrarvi questo iPhone 13 a 200 euro, ad un'asta più o meno a 200 euro. Cosa potete fare? O tenere e ritirare il prodotto, farvelo arrivare a casa, oppure decidere di rivenderlo immediatamente, subito su Bui de Deep. Bui de Deep vi dà la possibilità di rivendere immediatamente quello che avete acquistato. Lo potete rivendere e come lo potete rivendere? Lo potete rivendere praticamente a prezzo di mercato, andando a guadagnare su quello che avete investito. Potreste investire 200 euro per un iPhone 13 e magari rivenderlo a prezzo di fabbrica, 900 euro, avendo un guadagno di addirittura 500, 600, 700 euro. Ragazzi, Bui de Deep vi dà tutte queste opportunità. Ripeto, il link lo trovate nel primo commento di ogni mio video. Ragazzi, Bui de Deep, il sito numero uno delle aste online. Ciao a tutti!